Carlo D'Abrecia ci scrive perché ha un problema con il pagamento delle spese condominali, che in questo periodo fatica ad onorare. Cosa può fare per non trovarsi in gravi problemi? Sentiamo l'Avvocato Bortolotti. L'Avvocato Bortolotti. Occupiamoci di un tema molto delicato, anche in questo caso di, ahimè, frequentissima presentazione, anche in ragione, diciamolo, delle condizioni anche socio-economiche in cui versa il nostro paese, in cui si sono venuti a trovare anche tantissime famiglie negli ultimi tempi. Parlo delle eventualità nel quale ci si resti molto indietro con il pagamento delle spese condominiali, quindi la cosiddetta morosità da spese condominiali. è un problema che non va sottovalutato perché nella nostra esperienza di studio legale capita frequentemente di incontrare persone, condomini che mettono un po' da parte, diciamo, questa esposizione, questo debito, per poi scoprire di essere arrivati in poco tempo in una situazione quasi insostenibile. Quindi è bene ricordarsi che nel momento in cui cominciamo ad avere delle difficoltà a sostenere il ritmo dei dovuti pagamenti delle spese condominiali, dobbiamo subito attivarci in qualche modo per non trovarci in una situazione molto disagevole. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, molto praticamente, noi abbiamo l'onere di valutare, di controllare quelli che sono i conti del condominio. Quando saremo chiamati ad approvare consuntivo e preventivo per l'anno contabile, noi riceveremo dall'amministratore i cosiddetti conteggi, i cosiddetti bilanci, quindi preventivo e costitutivo, che ci riguardano nominativamente. È opportuno controllarli attentamente questi conti, questi conteggi, magari con l'aiuto anche di qualche altro condomino, e quindi di verificare se effettivamente la nostra posizione contabile è quella che viene esposta e nel caso in cui ci fossero delle incongruenze, comunicarle all'amministratore o addirittura votare contro l'approvazione del bilancio. Ricordiamoci, l'abbiamo detto in precedenti occasioni, che soltanto votando contro una delibera noi potremmo poi eventualmente impugnarla e reclamare giustizia davanti al Tribunale competente. Se i conti sono giusti e noi purtroppo non ce la facciamo, ricordiamoci che non è sufficiente, diciamo così, accampare scuse o comunque raccontare all'amministratore quello che è la nostra condizione di disagio. Ad esempio vengono in mente situazioni nelle quali una persona ha affittato l'immobile a qualcun altro il quale non paga più l'affitto e quindi a sua volta il proprietario si trova in difficoltà. Queste sono situazioni che non hanno rilevanza alcuna nei confronti dell'amministrazione condominiale, quindi noi non potremmo farci scudo di queste argomentazioni nel caso in cui saremo chiamati a dare conto del nostro debito. Ricordiamoci che dal 2012 con la riforma del diritto condominiale l'amministratore ha l'obbligo giuridico di agire per recuperare il dovuto al condominio entro sei mesi dall'approvazione del consuntivo. Quindi se prima noi potevamo magari fare affidamento sul fatto che gli amministratori di condominio, magari anche amici, conoscenti, fossero un po' lenti nel rendersi conto della situazione di morosità e nell'agire, adesso dobbiamo renderci conto che la legge impone all'amministratore di essere veloce e molto deciso. Questo cosa vuol dire? Che noi potremmo ricevere, se abbiamo trascurato di provare a sistemare magari con un piano di rientro a rate il nostro debito, potremmo ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Cosa vuol dire immediatamente esecutivo? Vuol dire che la disciplina condominiale fa in modo che l'ingiunzione di pagamento sia immediatamente esecutiva, ossia possa essere immediatamente azionabile dal condominio per addirittura pignorare i nostri beni, conto corrente, l'immobile, lo stipendio, per rientrare dello scoperto. Questo è un aspetto davvero molto molto rilevante, perché sono davvero tante nella nostra esperienza professionale le situazioni che potevano essere abbastanza agevolmente recuperate in principio, ma che sono diventate quasi ingestibili e quasi insostenibili con la notifica di un decreto ingiuntivo. Ricordiamoci che un decreto ingiuntivo è un'ingiunzione di pagamento che può essere opposta in tribunale se ci sono delle motivazioni valide, ossia se io ho pagato effettivamente quello che mi viene chiesto, se ci sono altri motivi che io con l'assistenza di un legale posso individuare, ma diversamente la notifica dell'ingiunzione di pagamento darà, in caso di mancato saldo del dovuto, darà delle conseguenze molto molto pesanti, che sono in primo luogo molto probabilmente l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del condominio sul nostro immobile, quindi noi per la somma che dobbiamo pagare al condominio ci troveremo un'ipoteca solo immobile. Secondariamente nel caso in cui non riusciremo a venire incontro alle richieste, alle istanze di pagamento del condominio potremmo subire, come accennavo prima, anche delle procedure esecutive, ossia dei pignoramenti. Il pignoramento è un procedimento molto molto invasivo e molto grave, perché nel caso del conto corrente il pignoramento interviene a bloccare il nostro conto corrente e nel caso del pignoramento dello stipendio il pignoramento interviene a sottrarre al nostro beneficio almeno un quinto di quello che è il nostro emolumento mensile. Quindi cerchiamo di ricordare come condomini che nel caso in cui sorga una notevole difficoltà economica che ci porta a non riuscire a pagare in tempo e correttamente le nostre spese condominali, non dobbiamo assolutamente pensare che questa sia una voce di debito trascurabile, perché dal 2012 in virtù della riforma intervenuta l'amministratore di condominio ha una marcia in più, un'arma in più per agire immediatamente nei confronti dei debitori e dare in caso di mancato saldo seguito a tutte le conseguenze piuttosto problematiche cui ho accennato prima. Quindi consiglio come sempre nel caso in cui noi abbiamo una situazione di grave esposizione è il caso di rivolgersi a un avvocato il quale sicuramente analizzando la situazione e contattando anche l'amministrazione di condominio potrà dare i consigli adeguati per risolvere la situazione ed evitare i problemi che abbiamo illustrato poc'anzi. Oggi parliamo di avvocati. Qual è la differenza tra avvocato d'ufficio e avvocato gratuito? Sentiamo il nostro esperto. Buona serata a tutti. Tento oggi, tento, di fare un pochettino di chiarezza su un concetto sul quale esiste una confusione totale, la differenza tra avvocato d'ufficio e avvocato gratuito e se vogliamo anche avvocato delle organizzazioni sindacali. Che cosa è l'avvocato d'ufficio? L'avvocato d'ufficio è un avvocato che viene nominato dal giudice, dal tribunale, quando un cittadino, una persona, è coinvolto in un giudizio penale, non civile. Quando è coinvolto in un giudizio penale il cittadino gli viene nominato un avvocato d'ufficio perché chiunque ha diritto e non può rifiutarsi di essere assistito in un giudizio penale da un avvocato. Attenzione, quando uno riceve una comunicazione di apertura di un procedimento penale gli viene anche comunicato il nome dell'avvocato d'ufficio e gli viene anche chiarito, informato che l'avvocato d'ufficio, cioè quello nominato nel giudizio penale, va pagato, va pagato. Per cui la persona può rivolgersi a quell'avvocato che gli è stato nominato e concordare, chiarire con lui quant'è il compenso, oppure può benissimo decidere di andare da un altro avvocato, il cosiddetto avvocato di fiducia e nominare un altro avvocato. Ma attenzione, primo concetto, l'avvocato d'ufficio è un avvocato dei giudizi penali e che va compensato. Diverso è l'avvocato gratuito, che è una cosa totalmente diversa, deriva da una norma della Costituzione, ciascun cittadino ha diritto a potere accedere alla giustizia senza dover pagare i costi della giustizia quando il cittadino è considerato non abbiente, cioè in condizioni di non ha soldi, in buona sostanza. Allora in questo caso interviene lo Stato a pagare l'avvocato, è il cosiddetto istituto del gratuito patrocinio. Quali sono le condizioni? Le condizioni sono essenzialmente due. Innanzitutto un problema di reddito. Allo Stato attuale il cittadino non deve avere guadagnato nell'anno precedente più di 11.528 Euro, qualcosa meno di 1.000 Euro al mese. Ma attenzione, stiamo parlando di reddito lordo, che poi a quel livello non c'è tassazione, ma stiamo parlando di reddito familiare, in cui negli 11.000 Euro bisogna considerare i redditi di coloro che sono nello stato di famiglia. Qualcuno mi dice, ma non è giusto. Ho capito, può anche essere vero, può essere condivisibile, non condivisibile, bello, brutta questa norma, ma è così. Nella per avere gratuito patrocinio si sommano i redditi del nucleo familiare. Secondo elemento, se io sono sotto questa soglia non è che posso fare qualsiasi cosa, chiedere qualsiasi cosa, perché nella domanda va fatta all'ordine degli avvocati, quale ordine avvocati? Quello competente dove va instaurata la domanda giudiziaria e in cui devo spiegare che causa voglio fare e devo tracciare, devo indicare sostanzialmente gli elementi fondamentali che diano, non dico fondatezza sicura ragione, ma almeno una qualche ragione di fondatezza della propria domanda. La domanda va fatta indicativamente presso l'avvocato e tramite l'avvocato viene inoltrata questa domanda all'ordine professionale. Quale avvocato? E qui è la confusione. Non è un avvocato che viene nominato dal tribunale. L'avvocato lo sceglie il cittadino, il quale cittadino può individuare l'avvocato che preferisce, scegliendolo in un elenco che è reperibile presso gli ordini tribunali o professionali o comunque anche tramite internet, degli avvocati iscritti all'albo professionale di un tribunale disponibili, interessati a fare anche attività con partecipazione a gratuito patrocinio. Al termine della causa l'avvocato sostanzialmente non viene pagato dal cittadino ma riceve un compenso da parte dello Stato. Questo è un elemento quindi interessante, importante che il cittadino deve sapere e chiedere al proprio avvocato di poter accedere a questi diritti perché è un diritto costituzionalmente riconosciuto la possibilità di utilizzare la struttura, come dire, l'attività giudiziaria anche a chi soldi non ne abbia. Grazie. Anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ricordiamo la nostra mail avvocatirispondono chiocciolalicomizio.it. Ci rivediamo martedì prossimo.